Una tesi di laurea dedicata ai diritti degli stranieri. E' stato scelto il lavoro di Alice Campolmi come vincitore del premio David Sassoli dedicato al tema l'Europa e le regioni cittadini. Ennesimo omaggio delle istituzioni toscane nei confronti dell'ex presidente del Parlamento europeo. Ad un anno dalla prematura scomparsa, le parole di David Sassoli sono ancora attuali. Dall'Europa unita alle sfide per i diritti. Sfide che saranno portate avanti anche dai giovani. Ai quali spesso l'ex giornalista e politico nato a Firenze sapeva rivolgersi. Questo appunto è un vero onore. Spero che il fatto che questo premio possa riuscire anche a contribuire a portare avanti il suo pensiero e anche in modo concreto. Durante la cerimonia per ricordare l'ex presidente del Parlamento europeo è stato osservato anche un minuto di silenzio. Tenere viva la memoria di Sassoli sarà un compito delle istituzioni. Credo che sarebbe stato contento di vedere come le ragazze e i ragazzi hanno risposto a questa iniziativa. La qualità dei loro elaborati ci avrebbe dato una pacca sulle spalle e sorridendo ci avrebbe detto continuiamo a lavorare.